Tu che faresti se mentre mangi il tuo bel gelatino vedessi spuntare due antennine e ti accorgessi che nella crema c'è una blatta? Ora, a parte il blaaa, viene da chiedersi ma il commerciante ha commesso un reato? La questione è rilevante perché la norma che punisce questa condotta parla di invasione di parassiti per cui sembrerebbe che la presenza di un solo insetto non sia un elemento idoneo a configurare il reato ma il punto, dice la Cassazione, non è capire quanti insetti o parassiti ci siano dentro il cibo che compri perché è sufficiente anche un solo elemento estraneo tale da dimostrare che il cibo sia in qualche modo contaminato e quindi non idoneo alla vendita e alla consumazione e aggiunge tanto più evidente quella presenza tanto più il prodotto è inidoneo ad essere messo in commercio questo è il caso della blatta per esempio le cui dimensioni non sono per nulla trascurabili ovviamente è il diritto penale che stè?